Stai in vacanza, senti, ti sei accorto? Una specie di villaggio Artur, però c'hai le regole sue. Che è sto mostro? Perché sto qua? Si mangia bene qua, per questo ci vengo spesso. Benvenuti sulla nave dei pazzi. Tutto senza senso. No, poi se ti metti a cercare il senso di piano, v'è matto. Ma non lasciare che nessuno ti racconti il mondo. Tieni il tuo sguardo aperto. Sì, però... ... ... ... ... ... ... ... ...